Ben trovati all'ascolto del nostro telegiornale. In apertura parliamo della protesta avvenuta questa mattina nella zona del parco archeologico della Neapolis. Sono i venditori, i commercianti della zona di Casinacuti che di più stanno avvertendo la crisi post-covid. Chiedono quindi aiuto dall'amministrazione comunale e che la biglietteria torni ad essere appunto vicino alle postazioni di vendita. Sentiamo di più nel servizio e quali sono le loro richieste. Occorre ripristinare la biglietteria del parco archeologico della Neapolis all'interno di Casinacuti e questa è la richiesta dei commercianti che stamattina hanno protestato all'interno del sito semideserto a causa della crisi post-covid-19. Attualmente la biglietteria si trova all'interno dell'area archeologica. Ciò ha creato una netta diminuzione degli incassi dei commercianti. Siamo qui stamattina per rilasciare costantemente come si fa da qualche tempo a questa parte una dichiarazione che riguarda tutti noi. Sono 12 anni che noi siamo entrati in quest'area di comune accordo col comune e la soverendenza per far sì che sul Viale Paradiso, cioè all'interno del parco archeologico, per questione di sicurezza venissero spostati tutti i chioschi all'interno di quest'area. Quando abbiamo firmato questo contratto ci è stato detto, assicurato e messo per iscritto che la biglietteria sarebbe stata all'interno di quest'area, cioè qui nell'area Casinacuti. Nei primi anni di questo trasferimento siamo stati benissimo, dopodiché si sono succedute per la biglietteria, delle società private. Queste società private, iniziando dalla biglietteria e poi finendo in altri servizi, hanno preso possesso dell'area all'interno del parco, facendone in un certo senso i comodi loro e casa loro e agendo come se non ci fosse null'altro che gestisce questo sistema. Noi siamo qua stamattina per ribadire che dopo i mesi invernali e il lockdown, noi è da sette mesi che siamo completamente fermi. Abbiamo chiesto alle autorità di competenza, fra cui sindaco, assessori e tutti quanti, ci siamo incontrati con loro e abbiamo chiesto cortesemente di riaprire immediatamente dopo l'apertura del parco la biglietteria. Questa cosa non è stata fatta, perché nonostante in questa biglietteria di Casinacuti l'anno scorso siano stati fatti delle opere di restauro per mettere tutto a norma, dove ci sono postazioni, cassaforte e tutte le norme di sicurezza, hanno aperto la biglietteria dove prima c'era un bagno pubblico. Quindi adesso la biglietteria di Casinacuti è chiusa e la biglietteria si trova all'interno di questo casotto, in Viale Paradiso. A tutto questo perché noi protestiamo? Perché praticamente quest'area è servita soltanto per i turisti. Se non c'è il flusso turistico all'interno dell'area, noi possiamo anche chiudere, perché non ha ragione che noi stiamo qua per fare soltanto numero, perché le persone qua dentro non entrano se non c'è la biglietteria e oltre la biglietteria c'è il bar, ci sono i servizi genici, ci sono le attività di souvenir. Quindi noi esigiamo che le autorità si smuovano a fare questa cosa perché in settimana, se questa biglietteria non sarà aperta, noi siamo pronti a trasferirci di nuovo in Viale Paradiso, così come era 12 anni fa. Cambiamo argomento, parliamo di una spiaggetta siracusana, parliamo della spiaggetta della punta del Pero in Contrada Isola. Attualmente si trova una parte della spiaggetta ricoperta da rifiuti, quindi habitat confortevole per animali, parassiti e batteri. Una triste storia si lega appunto alla spiaggetta della punta del Pero perché una ragazza è stata morsa da una zecca e quindi al pronto soccorso hanno provveduto alla rimozione. Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex consigliere comunale Francesco Burgio, ma vediamo appunto la situazione della spiaggetta della punta del Pero nel servizio. Fine giugno, estate inoltrata, il mare e le spiagge di Siracusa accolgono i bagnanti del posto e i turisti che dopo tre mesi di lockdown riassaporano la libertà godendo anche di una semplice giornata di mare. Splendido scenario quello che si può ammirare dalla spiaggetta della punta del Pero in Contrada Isola. Mare pulito e calmo, ortigia di fronte in tutto il suo splendore, si può anche ammirare il santuario della Madonna delle Lacrime. Non manca proprio nulla per una giornata di relax. Se non fosse che i bagnanti siracusani e i turisti, alle loro spalle, godono di tutt'altro scenario. La spiaggia si presenta sporca, piena di rifiuti di ogni genere, pericolosa soprattutto per i bambini che si trovano a correre e giocare in mezzo a tanta sporcizia. Tavole con chiodi arrugginiti, lattine, barattoli di ogni genere, contenitori di detressivi, bottiglie di birra, lattine di coca cola, scheletri di ombrelli e tantissimo altro. Un vero peccato che una spiaggetta così bella venga deturpata da migliaia di rifiuti. Una parte che i bagnanti potrebbero sfruttare come postazione per la giornata di mare, invece è completamente coperta da sporcizia. In un periodo dove l'igiene dovrebbe fare da padrona, la spiaggia non si presenta per niente sicura, sanificata e pulita, creando così un ottimo habitat per animali, parassiti e batteri. Abbiamo fatto personalmente le immagini e pensato di chiedere un intervento immediato a chi di competenza. Intervento che doveva già avvenire almeno ai primi di giugno, come avvenuto per altre spiagge che fanno parte del progetto Spiagge Libere. E allora ci si domanda come mai sia stata lasciata in queste condizioni. Stesse domande. Su questo scempio è intervenuto anche l'ex consigliere comunale di Siracusa, Francesco Burgio, che ci segnala un aneddoto legato alle pessime condizioni igieniche della spiaggetta della punta del Pero di Contrada Isola. Francesco Burgio, ricordiamo in carica al Consiglio Comunale fino all'ultimo mandato, sempre disponibile con i cittadini, ci segnala una brutta vicenda che ha vissuto una ragazzina di 16 anni, che in quella spiaggia, giorno 16, mentre era sdraiata a prendere il sole, si ritrova una zecca attaccata nella parte sinistra del collo. Alla scoperta del parassita attaccato sul suo corpo, insieme ai suoi genitori spaventati delle conseguenze del morso della zecca, si reca al pronto soccorso Umberto I di Siracusa. Sul posto i sanitari provvedono quindi alla rimozione della zecca e la tengono sotto controllo per verificare i conseguenziali sintomi. Il tutto refertato dall'azienda sanitaria siracusana. Con queste purtroppo reali immagini della spiaggetta della punta del Pero in Contrada Isola e la storia della ragazzina, di cui si è occupato Francesco Burgio, che ha anche chiesto personalmente un intervento di bonifica nella spiaggetta, si chiede almeno l'immediato intervento dell'amministrazione comunale siracusana. Basterebbero un paio d'ore di lavoro manuale, dato che sul luogo i mezzi non possono arrivare, per rendere la spiaggetta sicura e pulita ai bagnanti e ai turisti, senza trovarsi con zecche attaccate al proprio corpo o piedi feriti da rifiuti, che con il mare, l'ambiente e lo splendore del luogo dove si recono turisti e cittadini siracusani non c'entrano proprio nulla. Questo scempio è un vero e proprio peccato. E se da una parte si chiede l'intervento della rimozione dell'immondizia alla spiaggetta della punta del pero, adesso si parla invece del contratto di appalto firmato con la Tecra, quindi appunto si spera in maggiori interventi di pulizia in città. Sentiamo. È stato firmato il contratto di appalto con Tecra SRL per la gestione del servizio di geno urbana a Siracusa. Si conclude quindi l'iter amministrativo avviato con il bando europeo che affida per i prossimi sette anni e per la somma complessiva di 121.454.840,24 euro uno dei servizi più importanti della città. Da mercoledì 1 luglio dunque via al nuovo servizio. Le principali novità, almeno quelle che saranno immediatamente percepite dall'utenza, riguardano l'apertura dei centri comunali di raccolta anche il lunedì mattina. La presenza dei CCR mobili con pesatura da lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Lo spazzamento domenicale di Ortigia e della zona ombertina, il porta a porta nelle zone balneali e delle case sparse. Nei prossimi mesi con l'arrivo delle nuove attrezzature sarà infine completato il porta a porta nella zona di Grotta Santa, ancora non coperta. Con questo affidamento settennale può iniziare la vera sfida per tutta la città, quella di diventare una città normale. Lo dichiara il sindaco Francesco Italia che entrando nel merito ricorda come quello firmato sia un appalto calibrato al nostro vastissimo territorio e rispondente alle vocazioni e alle attività presenti in esso. Un appalto che attraverso un servizio efficiente dovrà rispondere alle esigenze dei cittadini. A loro ci rivolgiamo in quanto parte importante per la riuscita del progetto. Offrendo questi ulteriori servizi chiediamo al contempo il massimo rispetto dei calendari, delle giornate di conferimento e dei regolamenti comunali. Dopo una prima fase di start-up, aggiunge l'assessore Andrea Buccheri, si concretizzeranno gli altri nuovi servizi previsti dalla gara, tra i quali la tariffazione puntuale e l'obbligo del trend di crescita graduale della raccolta differenziata, diventato un obbligo contrattuale del gestore. Un nuovo servizio quindi ancora più attento e nelle intenzioni ancora più efficace. Il nucleo ambientale della Polizia Municipale sta attuando nuovi metodi di controllo con l'ausilio di sofisticate attrezzature per contrastare il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti. Dino Gerrusso in un'intervista precisa l'amore che appunto gli elettori provano nei suoi confronti, quindi smentisce le cattive accuse. Sentiamo. La situazione politica siracusana al centro è l'attenzione, soprattutto per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Alle dichiarazioni più o meno velate dei giorni scorsi, Dino Gerrusso, eurodeputato pentastellato, ha avuto modo di replicare, venendo proprio a Siracusa, a coloro che affermano che sia l'esponente poco amato all'interno dei pentastellati. Lo ha fatto con una dichiarazione rilasciata durante una sua visita di recente nella zona della borgata Santa Lucia. Ancora una volta scopro che alcuni giornalisti di Siracusa amano parlare di me in termini un po' singolari. Hanno scritto che non sono amato dal Movimento e non solo. Questo mi stupisce perché ricordo che sono l'esponente del Movimento 5 Stelle più votato nella storia del Movimento 5 Stelle. Cioè da quando esiste il Movimento 5 Stelle la persona che ha avuto più voti di preferenza in assoluto, 117.211, sono io. A me non interessano assolutamente discorsi di correnti. Mi dispiace che la ex candidata a sindaco di Siracusa abbia scritto parole totalmente sbagliate nei confronti del governo Conte e quindi del Movimento che sostiene il governo Conte, ma è libera di pensarla e io sono libera di dissentire. Non mi interessa fare correnti, non mi interessa portare forza e acqua a null'altro che non sia il Movimento 5 Stelle. Ogni qualvolta vengo a Siracusa e in provincia, riunisco tantissime persone che credo siano ben contente di avere come portavoce il Parlamento europeo di Nogia Russo e mi auguro di poter continuare a lavorare per la città di Siracusa come per tutti i comuni, le province della Sicilia e della Sardegna e continuare a essere poco amato o detestato, come scrivono alcuni giornalisti di Siracusa. Se essere poco amato significa questo, fare il pieno di voti, essere stato eletto per primo anche come facilitatore nazionale e continuare a riempire i nostri meetup e a fare politica nel modo che ci piace. Io comprendo benissimo che c'è qualcuno che non vuole mai accettare la realtà che ci fa a botte, però glielo sconsiglio perché quando ti sconti troppo con la realtà di solito hai più cose da perdere che cose da guadagnare. Cambiamo totalmente argomento, parliamo della festa di San Paolo Palazzolo appunto in festa questa mattina Tris ha seguito in diretta sia sul canale 172 e anche sulla pagina Facebook ha seguito quindi l'intera festa e quelle che sono le tradizioni cerimoniali per il santo San Paolo. Sentiamo. Anche il prefetto Giussi Scaduto ha voluto partecipare e quindi essere presente questa mattina alla Basilica di San Paolo per la concelebrazione religiosa relativa ai festeggiamenti in onore del patrono di Palazzolo Acreide. Il prefetto già ieri aveva preseduto un vertice, una riunione con le forze dell'ordine, il comitato organizzatore e i devoti di San Paolo e con il Monsignor Savotore Gallo a un incontro che si era reso necessario per la verifica della conformità di alcuni dettagli del programma della festa di San Paolo alle direttive vigenti per il contenimento del Covid-19. Dopo un ampio confronto è stato concordato che la cerimonia era svelata che si è tenuta ieri e non è stata effettuata. Affermo è stato che i fedeli hanno potuto venerare il santo sul fercolo durante la celebrazione delle messe come quelle di questa mattina, ingressi contingentati, costante sanificazione degli ambienti, presente alla concelebrazione anche il sindaco e il vice sindaco Gallo e Aiello. La concelebrazione è stata preseduta da Monsignor Salotore Vappalardo, arcivesco di Siracusa, che è stato tra le altre cose omaggiato con un quadro che riporta all'effigie di San Paolo in occasione dei suoi 75 anni, in realtà compiuti il 18 marzo, ma in pieno Covid non era possibile fare alcun evento pubblico. Grande e composta partecipazione dei devoti, ma anche della popolazione palazzolese, non solo, che ha atteso pazientemente ai cancelli. La possibilità è entrata per offrire i bambini al santo patrono. Il sindaco di Palazzolo. È il giorno della preghiera, è il giorno dove il nostro cuore si deve liberare da tante cose. È il giorno di aprire il nostro cuore, di aprirlo ai nostri santi, al Signore soprattutto, e farci ritornare soprattutto l'umiltà, la grande umiltà che ci ha insegnato questo periodo di pandemia. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, ma vi aspettiamo ancora dopo per la seconda parte del nostro telegiornale durante la quale parleremo di cronaca, in particolare di interventi da parte della Polizia di Stato che ha arrestato un uomo per furto aggravato. Anche i carabinieri nel weekend hanno fatto controlli a tappeto in città. Parleremo anche dell'esercitazione che è avvenuta in questi giorni da parte degli agenti della Polizia di Stato che hanno dato vita a delle scene da film per appunto allenarsi in eventuali situazioni di emergenza. Parleremo anche della vittoria della Sicula Leonzio nella prima partita dei play-out. Questo e tanto altro dopo la pubblicità. La sala operatoria dell'unità funzionale di oculistica si è dotata di un nuovo microscopio e di strumenti di ultima generazione utilizzati negli interventi di micrologia oculare e soprattutto negli interventi di cataratta. Nuova strumentazione all'avanguardia per la chirurgia oculare ma soprattutto la cosa importante che è arrivata sono le nuove lentine intraoculari in grado di correggere tutti i difetti visivi, miopia, ipermetropia ed astigmatismi. Quindi nuovi investimenti per la Villarizzo e soprattutto maggiori servizi alla tutela dei nostri pazienti. Casa di cura Clinica Villarizzo, Via Sebastiano Agati, Siracusa, Info 0931 70 81 11 www.tropicalcaffè.it Ben trovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Andiamo a parlare degli interventi di controllo in città da parte dei carabinieri. Sentiamo quali sono. Continuano i servizi di prevenzione e repressione sul territorio di competenza dei carabinieri della compagnia di Augusta che coincide con la zona nord della provincia Aretusea. In tale contesto i militari della stazione di Francofonte hanno deferito in stato di libertà una coppia di persone per il reato di detenzione illecita di stupefacenti, oltre che porto illegale di oggetti atti ad offendere. I due detenevano circa 3 grammi di cocaina suddivise in dosi all'interno della vettura, loro in uso, e avevano occultato e detenevano anche senza giustificato motivo una mazza da baseball. Più in generale i militari dell'arma hanno segnalato due persone alla prefettura per l'uso personale di stupefacenti trovati in possesso di un grammo e mezzo di marijuana e hanno proceduto così al controllo di 82 esercizi commerciali e per la verifica degli adempimenti delle disposizioni volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 127 veicoli controllati e 193 persone. Contestati sei violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, due per uso di telefonino durante la guida, una violazione per la circolazione di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, quindi la RCA. È stato operato il fermo amministrativo di una moto, poiché il proprio conducente è stato sorpreso mentre si divertiva a impennare a gran velocità sulla pubblica via. Complessivamente sono stati sottratti 40 punti patente, ritirati due documenti di circolazione, dellevate sanzioni per violazione al codice della strada per più di 2.000 euro e infine sono state effettuate 9 perquisizioni personali e 7 veicolari. Parliamo anche degli interventi della questura di Siracusa che ha arrestato un uomo di 42 anni per furto aggravato e minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Poi i vari interventi di controllo in città. Sentiamo. Diversi gli interventi delle volanti della questura di Siracusa. Gli agenti hanno infatti arrestato Sebastiano Violante, siracusano di 42 anni, già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora per i reati di furto aggravato, resistenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, alle 12.50 di ieri, gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di un furto in un garage in via Nicastro. Giunti in via Sicilia, gli agenti hanno notato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla sala operativa che alla vista delle volanti è riuscito a fuggire dirigendosi nelle campagne adiacenti la pista ciclabile, abbandonando la refurtiva. Gli agenti hanno seguito il ladro a piedi che, una volta raggiunto durante le fasi dell'arresto, minacciava ed oltraggiava gli operatori. Dopo le formalità di rito, Sebastiano Violante è stato posto agli arresti domiciliari. La refurtiva che gli agenti sono riusciti a recuperare ripercorrendo il tragitto dell'inseguimento è stata poi restituita al legittimo proprietario. Nel corso della scorsa settimana, gli agenti della Polizia di Stato, coadiuvati anche dalle altre forze dell'ordine, hanno eseguito controlli straordinari del territorio, finalizzati in particolare a colpire le piazze dello spaccio e a prevenire ogni forma di reato. I controlli che hanno interessato tutta la provincia, soprattutto durante il fine settimana, sono stati finalizzati anche al rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento sanitario al fine di limitare la diffusione del virus Covid-19. In questo contesto, durante il quale sono stati controllati complessivamente circa 200 persone e 400 veicoli ad Augusta, è stato anche denunciato un giovane di 19 anni che non si è fermato all'alte di polizia e cercando di sottrarsi al controllo ha guidato in maniera pericolosa anche per l'incolumità altrui. Apriolo Gargallo, sempre durante un controllo su strada, un altro uomo di 48 anni è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, perché è trovato in possesso di un coltello a serramanico e per la reiterazione della guida senza patente. Infine, quattro stranieri inottemperanti all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale sono stati denunciati ed intimati a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica. Forze speciali di polizia armate di tutto punto hanno fatto irruzione al castello Maniace dopo aver escalato con una fune il muraglione mentre dall'altro un elicottero ha sorvolato l'intera zona di Ortigia, come è stato possibile osservare in questi ultimi giorni. Il raid si è concluso con la cattura di alcuni pericolosi terroristi che si erano asserraiati nei locali dello storico edificio federiciano tenendo in ostaggio alcune persone. Un'azione da veri e propri Rambo che non aveva per fortuna alcuna aderenza con la realtà. Non si trattava nemmeno delle scene di un film ma di una semplice, quanto spettacolare esercitazione che rientra nelle molteplici competenze cui deve far fronte la polizia di Stato. Ruoli che inducono a sviluppare modelli organizzativi e protocolli di intervento multidisciplinari che interessano più componenti specialistiche della medesima organizzazione. Per rendere sempre più agevoli ed efficaci tali modelli sono stati organizzati a Siracusa scenari di crisi su cui intervenire testando così da una parte il livello di addestramento professionale dei poliziotti in servizio sul territorio siracusano ma anche la loro capacità di adattamento e di dialogo con le varie specialità chiamate ad esprimersi in base allo scenario ipotizzato. Nel corso dell'addestramento sono state inscenate ipotesi di salvataggio in mare di naufraghi con l'intervento dell'elicottero dei motoscafi e moto d'acqua. L'azione più coinvolgente è stata la simulazione di liberazione di ostaggi che vedono protagonisti sia criminali comuni sia terroristi controllo del territorio ad ampio raggio con perquisizioni per blocco di edifici con presidio delle aree stradali adiacenti nonché di interi tratti stradali extraurbani ed autostradali. È la prima volta che a Siracusa viene svolto questo tipo di addestramento che in futuro sulla scorta di una precisa volontà dipartimentale interesserà anche altre città italiane. Tutte le attività sono state video riprese dalla Polizia Scientifica Retusea perché oggetto di analisi e correttivi sotto la regia di personale della Polizia di Stato altamente specializzato. Parliamo adesso delle latomie dei cappuccini, un bene culturale siracusano molto bello, importante, affascinante perché ci sono buone notizie arrivano più di 307 mila euro per finanziare il progetto di attrezzamento delle latomie dei cappuccini di Siracusa per quindi dare più possibilità a spettacoli teatrali, musicali e culturali dove appunto le latomie dei cappuccini si presta benissimo come scenografia per appunto eventi culturali. Vediamo di più. Fondi in arrivo per valorizzare la zona delle latomie dei cappuccini di Siracusa. L'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha infatti accertato per gli esercizi finanziari 2020-2021 quasi 308 mila euro per finanziare il progetto di attrezzamento delle latomie dei cappuccini di Siracusa per lo svolgimento di attività culturali, musicali e teatrali. Ad annunciare la notizia è l'ex parlamentare Vincenzo Vinciullo. Il finanziamento arriva dalla scorsa legislatura infatti in virtù della legge regionale tra i 216 articolo 7,22 di cui lo stesso Vincenzo Vinciullo è stato relatore. Progetto che destinava 115 milioni di euro ai comuni siciliani per investimento è della legge regionale 8-2016 dell'articolo 15,9 di cui anche di questo Enzo Vinciullo è stato relatore. Le risorse ha proseguito ancora l'ex parlamentare fanno parte del POC 2014-2020 fatto proprio dall'Assemblea regionale siciliana che ha approvato l'ordine del giorno su modalità e distribuzione delle risorse disponibili ed assegnate alla regione siciliana proprio per gli anni che vanno dal 2014 al 2020. Un altro risultato importante quindi per la città di Siracusa conclude così Vinciullo e potrà così rivedere aperto al pubblico e alle attività musicali, teatrali e culturali una zona splendida come le Latomie e dei Cappuccini. Parliamo di sport parliamo in particolare della Sicula Leonzio che vince la prima partita dei play-out vediamo. Sfortuna e Traverse si mettono sulla strada del Biceglie verso la salvezza gara 1 dei play-out va la Sicula Leonzio che vince Alventura di Biceglie contro i ragazzi di Mancini finisce 0-1 in Terrapugliese dopo due clamorose Traverse colpite da casa dei compagni Mister Mancini sceglie il consueto 3-5-2 con la coppia Gatto e Bago in avanti mentre l'allenatore Molfettese Vito Greco risponde con il 3-4-2-1 con l'argentino Lescano come unico riferimento offensivo Al diciassettesimo c'è già la prima occasione per i nerazzurro stellati angolo di Zivert ed incornata di Abonkele che si stampa però sulla traversa Biceglie vicinissimo al gol al minuto 29 la sfortuna si accanisce contro gli stellati e arriva un'altra traversa Zivert dal limite prova a beffare Fasan ma la palla finisce sul montante la risposta della Sicula non si fa attendere Catania appoggia per Provenzano che però non inquadra lo specchio della porta la doccia fredda per i pugliesi arriva al 33esimo Bariti si invola verso la porta entra in aria di destro trafiggio non perfetto Casadei e 0-1 si va così a riposo nella ripresa invece non ci sono grandi occasioni da segnalare tanta confusione per i ragazzi di Mancini che non riescono a incidere soprattutto a siglare il pareggio l'unico squillo è di Dellino su servizio di Bagua al minuto 79 ma il giovane Barese non riesce a metterla a zampata decisiva ora in terra siciliana martedì 30 giugno servirà un miracolo al Biceglie vincere con due gol di scarto per portare a casa una salvezza che ad oggi sembra difficilissima adesso diamo spazio alle previsioni meteorologiche amici 3B Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese tra l'altro alta pressione che affonda le sue radici nel Nord Africa e quindi gran caldo in tutta Italia controlliamo la nuvolosità prevista ai nostri parti niente a segnalare alta pressione quindi a parte qualche annuvolamento che lambisce le regioni settentrionali ma davvero nubi di poco conto per il resto sole protagonista anche come precipitazioni non capita nulla di che se non magari nelle ore pomeridiane qualche breve acquazzone sulla fascia alpina sono temporali di calore ma davvero nulla di che quindi in definitiva giornata da piena estate anche se attenzione con un gran caldo temperature in ulteriore aumento toccheremo anche i 35 gradi all'ombra sulla bassa pianura padane nelle zone interne del centro sud se poi ci mettiamo anche il contributo dell'umidità ci sarà davvero da sudare per sapere per sapere quanto caldo farà da voi e quanto andrà avanti scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo dopo il il nostro telegiornale termina qui grazie per averci seguito arrivederci grazie per la visione Grazie a tutti